A far l'amore cominci a tu, stufo di vedere tuo figlio incollato alla Playa Station, portalo per una prova gratuita, a palleggiare e fare canestro con noi, nella palestra di via Caduti di Nassiria, scuola media Giovanni Falcone vola Napoli. Ci trovi il lunedì mercoledì venerdì dalle ore 17,30 alle 20.30.